Al momento non ha una colorazione politica, ma di certo ha una direzione. Parliamo del movimento dei sindaci che in basso Molise sta coagulando consensi attorno alla iniziativa dei primi cittadini di quell'area, tesa a valorizzare in chiave politica generale quel territorio spesso penalizzato da scelte autoreferenziali che arrivano dalle centrali di potere molisane. Uno dei protagonisti di questa marcia verso la regione, il sindaco di Termoli e presidente della provincia di Campobasso, Francesco Roberti. Sono circa 15 anni che il basso Molise non ha una rappresentanza politica, diciamo il vero perché c'è stata sempre una divisione tra sindaci, invece questa volta c'è una buona intesa, soprattutto è anche nata un amicizio tra noi sindaci per una serie di vicende che ci hanno visto coinvolti e che in qualche maniera stiamo cercando di perorare cause che riguardano quell'area e quel territorio. I dati dimostrano che il basso Molise quando è unito riesce a esprimere rappresentanti ad ogni livello. Da Roberti arriva anche una riflessione sulla propria area di appartenenza, il centrodestra che ha mostrato di essere tonico alle politiche, quanto ridotta Semolino sul piano degli assetti regionali. Torna a riunirsi il Consiglio regionale, la maggioranza in campo della coalizione continua a restare in sella di fatto per un solo voto. Lei è un uomo di partito, un uomo di centrodestra, quale percorso immagina? Non è nessun campalinismo, parliamoci chiaro, non si parla di questo. Si parla di un'area che per troppo tempo non ha partecipato a nessuna scelta politica, non è stato coinvolto mai in decisioni che riguardano il futuro di questa regione o anche le rappresentanze parlamentari. E' proprio per aree geografiche che bisogna tenere l'attenzione e far sì che nascono nelle aree locali i rappresentanti di quei territori che sono più emarginati e che in qualche maniera hanno una serie di criticità che dovranno essere per forza, dico per forza di cose, portate all'attenzione della politica. Altrimenti si esprimono sempre candidati nei grossi centri e poi ci sono le varie aree geografiche del Molise che subiscono. Appare evidente che la forza centripeta messa in campo dai sindaci del Basso Molise che va dalla periferia al centro è destinata ad avere un peso sempre più rilevante. In chiave regionale si vota a maggio prossimo, qualcuno dice addirittura giugno, ma le dinamiche politiche iniziano adesso e chi non le sa leggere sarà costretto a pagare dazio.